Maya e Lina Ma non vi siate ancora vestite? Mamma, Lina non sa fare a vestirsi! E allora le insegniamo noi! Dove si mettono i calzini? In testa! No, ai piedi! Ho un'idea! Mamma, girati! Dove si indossa questo? Ai piedi! E questo? In testa! E questo? E questo alle mani! E questo? Anche questo alle mani! Mamma, mamma, sono pronta! Ok, allora adesso vestiamo Lina? Sì! Adesso state non guardare! Mettiti lì! Dove va questo? Sulla testa! Sì! 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 E questo? Ai piedi! E questi? Questi sulle gambe E questo dove? Questo alle mani Lina è pronta Com'è possibile? Ho indovinato tutto? Sì, sei stata bravissima Io e Lina andiamo a passeggiare E io? Raggiuntiti Mamma, mamma, spettami Vai E tu sai come vestirti per una passeggiata? Allora metti mi piace e guarda altri video del nostro show Maya e Lina, ciao!